Mario Kart 8 Berks Allora, li ammazziamo sti giapponesi Bello quando c'ho mai trovato un paesano, beh I giapponesi Ma queste fanno molta all'eranza Lo vedo io Sti schreckini Sti schreckini Blink, blink Allora, allora Ascatsu Ascatsu Mamma mia Ma quanto si vede sono fatta? Poco Vabbè però Spine un altro po' Ma non va col paese, non va c'è un po' Col turbo Ecco col punghetto che c'hai? Non quel paese Così c'ho arrivato prima Ma No, dai non è vero Dai però non è possibile Ma non è possibile Allora 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 Non è vero L'ho È un altro po' Non è vero Non è vero Allora Mamma mia, ti ha fatto sto ragazzo. Adesso è bravo. Madonna. No. No, no, no. dai 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 però ma sono grande o piccolo ora? piccolo ah no si sono grande dai si è schifo Vincent sto tedesco allora cosa non bisogna mai chiedere a una donna il peso a un uomo il salario ai minion quale cattivo quale cattivo hanno servito dal 33 al 45 ho provato un po' a capire con le date c'è una etero tutta si spera comunque c'ho 100 mario e non 100 per cento mario perchè il per cento non lo va a mettere voti 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 3 6 9 11 ragazzi ma mancano ancora 59 iscritti ai 100 ma non è vero è vero va accelerata le cose ah come so Frank basta Frank lo faccio tutte le volte iscrivetevi adesso se no mi picchio Sì, Venta, sì, sì, sì. Voi non l'ascoltate. Poi lo smetta. Ok, vai, andiamo. Oh, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti a spingere il tuo re, animale? Animale. Ti ho mattato il vino. Madonna, che male. Ma facci. Ma facci, no. Ma facci, no. Ma facci, no. Vabbè. Vabbè, vabbè. Animale. 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 Eh, lo so, troppo forte. Ma facci, no. Ma facci, no. Tiè. Tiè. ora. Oh, oh. Tontra, tontra, tontra. Mamma mia. ma ragazzi ma sto più scherzo questa fa ma solo per sabere non vuole non mettere a tu no, credo credo ma ragazzi ma il gusto ma perchè non si sta fermando, mi continuano ad andare tanto da sola? ah beh dai secondo, prima come sono arrivato? è stata fermata, ma non è c'è una cosa. Grazie.